Nicolas Sarkozy torna a Bruxelles per la prima volta dopo aver perso le elezioni presidenziali francesi dieci mesi fa. L'occasione è la consegna della legione d'onore al ministro degli esteri belga, Didier Reinders, decisa quando era ancora l'inquilino dell'Eliseo. Durante la cerimonia, umorismo e battute di spirito, ma anche allusione all'attualità, in primis all'indagine che è stata aperta nei suoi confronti per circonvenzione d'incapace. Mi piace questo proverbio vallone che dice, fate come a Liegi, lasciate che piova. Io lascio che piova. Nella capitale belga, anche incontrato a titolo privato, i presidenti di commissione e consiglio, José Barroso e Herman Varrampoi, una mossa che ha scatenato le speculazioni su sue possibili ambizioni europee.